per secoli le persone credevano che l'inferno fosse al centro della terra una fornace infocata abitata da demoni un saluto a tutti quanti state ascoltando feed your mind oggi parliamo di lava delle placche tettoniche ed inoltre parleremo della pangea che è la teoria dove i continenti vanno alla deriva e così la lava è della roccia fusa generata dall'energia geotermica sotto la terra chiamano questa lava magma ed una volta che questa lava arriva in superficie viene considerata lava gli scienziati affermano che questo magma arriva fino in superficie attraverso delle spaccature della terra e nel mio ultimo video ho evidenziato che gli scienziati hanno la possibilità di esplorare non più di 14 chilometri sotto la superficie della terra non c'è alcuna possibilità di sapere cosa succede oltre i 14 chilometri ma una delle cose che sappiamo è giù sotto la terra c'è lava acqua e petrolio e gli scienziati insistono nel dire che la ragione per cui c'è così caldo sotto la superficie della terra è causato da questa energia geotermica la quale dicono arriva alla formazione originale del pianeta ma dal momento che non siamo su un pianeta dobbiamo scartare che sia caldo sotto la terra perché nulla a che fare col big bang gli scienziati hanno creato queste teorie per giustificare le loro conclusioni secondo quello che calza meglio con le loro ideologie e gli è stato permesso di inserire queste informazioni nei libri di testo e farli passare come fatti scientifici e così la crosta terrestre attorno alla terra si dice sia una specie di puzzle seghettato secondo gli scienziati ci sono tutti i tipi di fratture sotto la superficie della terra e la questione è che cosa causa questo massiccio riscaldamento sotto la terra pensate che la lava sia qualcosa simile ad una fornace qualcosa di simile a un sistema di riscaldamento sulla terra perché forse non è il sole che riscalda questo luogo forse questa terra è più meccanica di quello che abbiamo mai immaginato e forse la lava è parte di come funziona questo sistema per tenerlo riscaldato perché se questa terra ha tutto questo spazio meccanico o un motore che in realtà è in grado di spiegare tutto questo petrolio perché noi usiamo questo petrolio nella nostra tecnologia qui in superficie per lubrificare propriamente tutte le parti in movimento evitando lo sfregamento nel mezzo e cose del genere e forse questo sfregamento nel mezzo è quello rumore che le persone hanno sentito nel mondo di cui vi ho parlato nel video precedente e così gli scienziati ci dicono che il petrolio è un carburante fossile fondamentalmente i resti di dinosauri e cose del genere ma definitivamente non è questo quello che è il petrolio parleremo di questo in un altro video pertanto accertatevi di cliccare sulla campanella della notifica perché non abbiamo tempo di parlare di show in questo video ma prima di uscire da questo argomento parliamo ancora un pochino delle placche tettoniche perché è in relazione a questo tema della lava così gli scienziati hanno scoperto un anello di fuoco si tratta di un anello di vulcani che circonda l'oceano pacifico e i vulcani formano questo magma che arriva fino alla cima sulla superficie della terra creando queste montagne con la struttura che noi consideriamo vulcani e questo schema che gli scienziati hanno scoperto con questo anello di fuoco mappano le placche tettoniche e così gli scienziati ci dicono che le placche tettoniche generalmente si muovono di due centimetri all'anno anche se qualcuno ha suggerito due pollici all'anno ma in qualsiasi modo non si muovono molto secondo i report e anche il golfo della california si dice che si separa come una chiusura al lampo e montagne come le catene dell'himalaya il monte everest si dice che cresce di un pollice all'anno e ci dicono che tutte queste montagne si sono formate sono cresciute a causa dello spostamento delle placche tettoniche che spingono la terra insieme così la pressione edifica queste montagne apparentemente queste montagne sono le prove delle placche tettoniche che si spostano e questo significa che il Grand Canyon è il luogo dove le placche tettoniche si sono separate creando questa massiccia ballata e forse questo è da dove in realtà si sono formate queste placche tettoniche che si sono diffuse separandosi creando enormi canyon come le zone di terremoti le linee falda e tutto il resto si dice che sia parte di questo movimento delle placche tettoniche sotto la terra la cosa strana di questo è che gli scienziati rifiutano di credere che queste placche tettoniche esistano da tanto tempo perché quando alfred wegener la prima volta che ha suggerito questa teoria dello spostamento continentale delle placche tettoniche la comunità scientifica si è opposta con veemenza archiviando i ritrovamenti di alfred così ogni volta che la comunità scientifica si coalizza o rifiuta un'affermazione come questa fa sì che io mi addentri di più e sono certo che la comunità scientifica ha finito per trovare le prove di queste placche tettoniche dopo che questo signore era morto ora quando la comunità scientifica alla fine ha ammesso che le placche tettoniche esistono non sono riuscito a trovare la data esatta ma posso dire attorno ai tardi anni 50 ai primi anni 60 che è esattamente il periodo in cui è stata inventata la nasa e tutti gli altri strani programmi riguardanti questa terra addirittura all'operazione fishbowl è avvenuta in quel periodo così quei tardi 50 quei primi anni 60 sono stati apparentemente gli strani anni della storia ci sono stati tutti questi strani tipi di ricerca avvenuti in questa terra sempre nello stesso periodo e così alfred wegener non ha avuto la reputazione che si meritava infatti in realtà è sparito in modo sospetto in uno dei suoi viaggi per provare la sua teoria potete vedere che tutte le sue ricerche conducevano al polo nord ed è andato con un team al polo nord per trovare la sua teoria riguardo alla pangea dove la sua teoria era che tutti i continenti prima erano tutti insieme come un grande puzzle e la sua teoria suggeriva che tutti i continenti finivano nel separarsi a causa del movimento continentale ed il movimento delle placche tettoniche e così come riportato da alfred wegener ci indicava che qualcosa stava succedendo al polo nord che in realtà poteva confermare le sue ipotesi riguardo alla pangea dove tutti i continenti una volta erano un grande continente portò il suo team lassù dove ci dicono che si erano accampati e quando ha lasciato il campo per cercare cibo per il suo team non è più tornato e non hanno mai più trovato il suo corpo così fondamentalmente è sparito e nessuno ha mai più sentito parlare di lui quindi che pensate sia successo ad alfred wegener lasciatemi sapere nella sezione i vostri commenti riguardo a tutti questi continenti che un tempo erano uniti tutti insieme come un solo grande continente chiamato pangea la cosa che mi colpisce di questa teoria è che la bibbia parla di un tempo quando la torre di babella è stata costruita per raggiungere i cieli e che il creatore ha dovuto entrare e confondere le lingue e così avrebbe potuto essere il tempo di quando separò i continenti allontanandoli ma tutta questa storia potrebbe anche non avere alcun senso su una terra a globo ma ha un senso perfetto su una terra piana col modello a cupola dove tutte le persone lavorano insieme per costruire una torre verso il cielo e secondo la scienza lo spazio inizia a circa 80 chilometri in su e sarebbe stato impossibile in realtà raggiungere questa altezza di impossibile raggiungere le stanze del cielo così negli ultimi giorni le placche tettoniche andranno a separarsi nuovamente mostrando il lago di fuoco sotto la terra che consideriamo lava e forse le persone rimaste sulla terra finiranno per cadere dentro il lago di fuoco precipitando letteralmente attraverso le spaccature della terra nella profondità del lago di fuoco così pensate che il riscaldamento di questa terra non ha nulla a che fare con questo lago di fuoco che possiamo trovare nella bibbia o pensate che il calore sotto la terra ha molto a che fare con il riscaldamento e il raffreddamento di questo sistema della terra andiamo a verificare alcune scritture che parlano di questo lago di fuoco possiamo iniziare da rivelazione 19 20 dove dice ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia quelli che avevano adorato la sua immagine questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo e così le scritture parlano di pochi individui malvagi che vengono gettati dentro il lago di fuoco e se dovessi immaginare dove possa essere questo lago di fuoco nel mondo fisico posso dire secondo le mie ricerche che questo lago di fuoco si troverà sotto la terra da dove arriva tutta questa lava così questa lava dovrebbe ricordarci qui sulla superficie della terra che in realtà questa è la prova di questo lago di fuoco che di certo si adatta alle descrizioni o no ed un'altra cosa che mi ha colpito riguardo alle scritture è che il falso profeta e la bestia sono stati gettati vivi dentro il lago di fuoco quindi se la terra si apre nel tempo finale a causa di queste placche tettoniche creerà dei massicci terremoti dove il suolo si aprirà in molte aree attraverso la terra creando una situazione dove molte persone potranno cadere dentro attraverso i crepacci della terra dentro il lago di fuoco che potrebbe essere la lava sotto la terra andiamo a vedere un'altra scrittura vediamo rivelazione 20 10 allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e zolfo dove sono la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli e vediamo che altro ha da dire la bibbia di questo lago di fuoco vediamo rivelazione 21 8 dove dice ma quanto ai codardi agli increduli agli abominevoli agli omicidi ai fornicatori agli stregoni agli idolatri a tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la seconda morte così la cosmologia biblica dipinge la terra come un luogo dove i cieli sono sopra e sotto c'è un luogo chiamato Sheol che potrebbe essere la prima morte secondo le mie ricerche Sheol è lo luogo dove le persone vanno una volta a morte si tratta come di una cella di trattenimento dove il nostro spirito attende il giudizio per decidere dove andremo dalla potrebbe essere come una tomba comune un luogo temporaneo di detenzione dove il nostro spirito attende il giudizio e così la seconda morte di cui parlano le scritture potrebbe essere quando i peccatori e diventa ancora più specifico quando i tipi di peccatori non sono in grado di passare il prossimo regno di esistenza vengono così gettati dentro il lago di fuoco che sarà la seconda morte perché il loro corpo fisico sarà già morto ma dopo che il loro spirito sarà giudicato e stabilito che non sarà degno di proseguire tutti questi peccatori saranno gettati dentro il lago di fuoco e ci sono molti studiosi biblici quali dicono che una volta gettati dentro al lago di fuoco è fatta non ce ne saranno altri il piano che il creatore ha voluto è di eliminare il male dall'esistenza non è previsto che ci sia un luogo dove Satana possa essere in carica e gestire lo spettacolo in realtà è un luogo che è stato ideato per rimuovere l'entità come Satana e di suoi demoni e tutti gli angeli caduti e tutti i peccatori finiranno nel luogo chiamato lago di fuoco dove verranno rimossi dall'esistenza ho un'ulteriore scrittura da farvi vedere rivelazione 20 da 14 a 15 e questa scrittura prosegue dicendo anche la morte e l'inferno furono gettati nello stagno di fuoco lo stagno di fuoco è la seconda morte e chi non l'ha trovato iscritto nel libro della vita venne gettato dentro lo stagno di fuoco questa scrittura sembra confermare quello di cui ho detto nel lago di fuoco dove finiscono i malvagi, i peccatori che saranno rimossi dall'esistenza perché la cosa che spicca per me in questa scrittura dice anche la morte e l'inferno furono gettati nello stagno di fuoco e così in rivelazione 20 a 14 dice anche Sheol, che ora chiamano inferno, è stato gettato dentro questo lago di fuoco quindi lo stesso Sheol e la morte vengono gettati dentro il lago di fuoco e così la morte non sarà più una cosa come ho già detto nel mio precedente video chi ha costruito la cupola è perché ma il creatore ha un piano per la morte la morte è stata intesa come una punizione e secondo le scritture ha creato un modo per elevarci da questa punizione della morte e se anche si muore fisicamente su questa terra una volta che il nostro spirito raggiunge lo Sheol ed accettiamo Gesù Cristo come figlio di Dio e nostro Messia avremo delle buone possibilità per evitare questo lago di fuoco quando qualcosa viene consumato dalle fiamme del fuoco ecco che non rimane altro da bruciare così tutto quanto quello che sarà gettato dentro questo lago di fuoco sarà come quelle cose che vengono eliminate dall'esistenza sia la morte che lo Sheol che è l'inferno che sarà eliminato nel lago di fuoco quindi l'inferno probabilmente non è quel luogo di tormento eterno è un luogo ideato per rimuovere gli indegni dal continuare in questa esperienza di vita quindi che pensate? che la lava ha qualche collegamento con l'ago di fuoco di cui si parla nella Bibbia? per secoli le persone credevano che l'inferno fosse al centro della terra una fornace infocata abitata da demoni e demoni e così hai visto l'inferno? ho visto la fossa, la fossa nera che si apre sotto di me ed ho visto un piccolo demonio vicino a me che pensavo fosse un alieno ma erano demoni questo è definitivamente qualcosa su cui pensare lasciatemi i vostri pensieri nei commenti sotto e cliccate sulla campanella delle notifiche perché parleremo del petrolio che non è un carburante fossile in un altro video unitevi al mio Patreon per un dollaro per mantenere Feed Your Mind online e ricevere via email le anticipazioni visitate HQH2O per liberarvi dal fluo ruro nelle vostre acque prendete uno spicciolo dal vostro portamonete troverete altri episodi da Feed Your Mind commentate, condividete e sottoscrivete grazie per esservi sintonizzati per chi è interessato nella descrizione trovate il link della traduzione combustibile fossile dell'agosto 2016 Grazie a tutti